Secondo movimento, una forma, un movimento circolare verso destra e un movimento sensoriale, mantenere il cerchio sensoriale. Secondo movimento, una forma, un movimento sensoriale, mantenere il cerchio sensoriale, mantenere il cerchio sensoriale. Quindi il centro chiude la braccia, il centro apre la braccia. C'è l'applicazione tale che può essere questa, qualcuno viene a terra per le mani, per le braccia. Giustare l'addya Oggi. E le braccia, il centro ai stai, il centro allo江o, abbiamo spero di tutto. non from arm, non from come to MUCHE but of course very important is to guest the people touch l'importante è che fare i test controlli in una serie Appena tocca fuori, non c'è di dare nessuna possibilità, non c'è di dare nessuna possibilità. Via, catturato, fuori, espulso. Adesso mettiamo queste due movimenti assieme. Mettrazione, appuntare. Prendere il passo, poi prendere il passo. Controllazione dall'altra parte. Grazie. 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 Il C deve essere connesso alla terra. E sollevare il ginocchio. Prendere in avanti con le mani e strattonare parti con l'aria scendere in avanti con il passo. Anche aperte e lasciate. Poi grande cerchia, questo passo, un'onda, un'aria, ma fa la grande cerchia, grande cerchia. Bene, adesso passo e buttare occhi e non buttare, poi giù, non ti goderemo, mano, pugno, giù, su, e battere, 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 scendendo. Non toccate, non toccate, non toccate, non toccate, devi sfrirare, avere la spera, la palla vicina, terra, qua. Vedi? Spero che invocate, essere connessi alla terra, per fare questo, lasciate aprire le armi, lasciate, faccio un bimbo, 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 faccio un bimbo. Pensate al rosso, 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 talco, cosa è la punta di una lancia, lasciate cadere, non ti sguardo a questo tempo? Non si sa, si sa, si sa, si sa, si sa? No, si sa, si sa, si sa, non si sa, no? Tutto giù. Sperta si. Stai vai, stai vai, ci riesco. Stai vai giù. Sì. Eh, giù. Giù. Sù. Sù. Not, and to tough. Not to tough. Not to tough, not to, not to, natural. Not to natural. non usate la forza si proviamo questa, questa è la prima tecnica, si chiama battere la terra, la realizza la fine attraverso la balanza e anche le gambe devono essere espansi, tenere pegnini, trovare l'arco delle gambe, mentalmente, non fisico il centro non muovete la mano il centro sulleva e la gamba va giù questo va su, questo va giù non è tutto su non è scendolo ma è santo non è scendolo, ma è troppo difficile una volta verso la terra questa metà alla verso la terra la metà alla verso la terra la metà alla verso la terra se non c'è la forza verso la terra se non c'è la forza verso la terra si stia l'atto stand Ok, proviamo ancora dall'inizio.